Siamo con Enrico Vignati, direttore generale della Pallavolo Milano Vittorio Veneto. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, vogliamo parlare di come è nata questa collaborazione con la Power Volley. In realtà la collaborazione è stata accennata qualche anno fa, poi purtroppo l'anno scorso Power Volley non ha avuto un futuro. In realtà questo nasce perché le persone che sono della Power Volley sono persone che conosco da molti anni e quindi c'è stata subito un'unità di intenti nel voler programmare, nel voler riportare una Pallavolo importante a Milano. Questo sicuramente ha aiutato poi nel momento in cui quest'anno Power Volley si è ripresentata sulla piazza a subito far interagire un rapporto tra di noi, anche perché proprio condividiamo il passato con Marco Collini che tra l'altro è stato con me addirittura a Paraviago, quindi si parla di una conoscenza di lunga data. E questa unità di intenti ci ha portato sicuramente a stringere una collaborazione velocemente, proprio perché sia le sinergie che le idee che abbiamo sul mondo della Pallavolo sono esattamente le stesse. E con piacere stiamo affrontando questa avventura di quest'anno che sia dalla parte del settore giovanile sia dalla parte della B1 sicuramente è un'avventura fantastica, almeno fino a qua l'abbiamo vissuta molto bene. Quali i principi formativi, sportivi e oltre è stabilita questa collaborazione? Dunque, i principi sono, allora innanzitutto noi rappresentiamo il settore giovanile oggi della Power Volley, quindi siamo praticamente la scuola di formazione dei giocatori che un domani parteciperanno alla prima squadra. La nostra idea di sport che è condivisa dalla Power Volley è sport agonistico ma non esasperato, quindi non quelle società nelle quali l'agonismo viene prima di tutto. Noi andiamo a formare i ragazzi, ad educarli, ad educarli a una disciplina sportiva ma anche ad educarli alla vita, cioè ad educarli agli impegni, alle abitudini, eccetera. E pian piano avvicinarli sempre più allo sport agonistico in maniera tale che poi un domani possono fare invece una scelta più mirata a livello agonistico e poi magari accedere un domani alla prima squadra con il loro impegno. Quindi è un principio di una Power Volley non esasperata ma sicuramente di qualità anche perché la nostra società, che poi è la Power Volley, Milano e Vittorio Veneto ha avuto sicuramente nel passato e anche nel recente passato dei giocatori sicuramente di levatura nazionale ma non per questo abbiamo dovuto insistere nell'agonismo disperato. Quindi hanno potuto frequentare la scuola, poter studiare, poter laurearsi e fare comunque dello sport agonistico di alto livello. Siete in una piazza come Milano, tentacolare, con mille tentazioni sportive su tutto il calcio, il basket e con tantissime società. Come riuscite comunque a trovare giocatori? Beh, la fortuna è che in questo momento stiamo lavorando molto bene nelle scuole. Abbiamo qualche ingresso nelle scuole medie, lavoriamo su tre plessi della provincia quindi effettivamente siamo un po' all'interno delle scuole. Questo ci facilita perché si conoscono gli insegnanti, siamo lì. Sicuramente il maschio, inteso come atleta, fatica ad arrivare subito alla disciplina a pallavolo. Soprattutto perché la palla, dovendo essere gestita dall'alto, è molto più difficile che dal basso. Quindi sport come basket o calcio rendono molto più facile la gestione della palla. Però devo dire che, ad esempio, noi oggi abbiamo un under 15 composta da moltissimi elementi, ormai sono quasi 18 e devo dire che dopo che hanno conosciuto lo sport si appassionano. Certo bisogna fare un lavoro di porta a porta, è il lavoro che sta facendo il direttore sportivo, stiamo coinvolgendo alcuni genitori, è un po' un lavoro di porta a porta. Sicuramente quello che poi dal punto di vista diventa importante è che la pallavolo è ancora uno sport dove si vive un buon ambiente, educato eccetera. Quindi questo fa molto presa sulle famiglie. E quindi una volta che hanno conosciuto l'ambiente spingono molto i ragazzi a giocare a pallavolo. Poi sicuramente avere una B1, portarli a vedere dai ragazzi adulti che comunque fanno viaggiare la palla a velocità importanti, sicuramente appassiona. Questo purtroppo è uno dei limiti del nostro sport, ha poca visibilità, per cui da questo punto di vista si fa fatica a far conoscere la pallavolo ai più giovani. Grazie Emilia Di Enrico Vignati, direttore generale della pallavolo Milano Vittorio Veneto. Grazie a voi, arrivederci.